Idea Web TV con Maria Schlegel dal Palamanera e abbiamo appena finito l'allenamento congiunto col Custorino, che è la squadra in cui giocavi lo scorso anno, giusto? Ti ha fatto piacere rivederli? Sì, sempre un piacere rivedere Custorino. E niente, è stato un allenamento duro, vi siete ricorse abbastanza? Sì, c'è un allenamento perché noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di giocare e loro sono una bellissima squadra e certo è che tutte le set sono state lì lì, alla fine fa bene. Avrete ancora un altro allenamento questo venerdì? Certo, sì. Contro Pinerolo? Sì. Quali sono i punti che secondo te devono essere ancora un po' rafforzati? Secondo me ancora dobbiamo provarci al campo, un po' puttino su tutto, alla fine è una squadra così mezzo nuova deve giocare tanto per conoscersi bene dentro il campo e speriamo di avere tutta la squadra pronta per venerdì, che fino adesso non abbiamo avuto l'opportunità e niente, vediamo cosa succede, l'importante secondo me alla fine essere pronti per il campionato. Certo, allora ci salutiamo, ti facciamo i migliori auguri per la prossima domenica, 7 ottobre e ci vedremo in campo. Grazie, ci aspettiamo tutti lì. Grazie. Grazie a tutti.